...senza un punto ragionevole, senza una motivazione valida. Qualche giorno fa, due giorni fa, è avvenuto il primo incontro sul Kashmir a livello internazionale. L'ONU dopo 50 anni si è mossa per parlare del Kashmir. Fino ad ora abbiamo parlato per tantissimo tempo della Siria, ma in questo momento la situazione in Kashmir è peggio. La gente non è libera di parlare, non ci sono i mass media, non ci sono le comunicazioni, perfino hanno tolto la tv satellitare. E allora, amici italiani, amici pakistani, amici di tutto il mondo, voi credete che togliere la libertà di parola alle persone sia un problema solo ed esclusivamente dei Kashmir? No, 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 no. Questo è un problema di tutti noi. Questo è un mostro che crescerà, è un mostro che si espanderà e noi non vogliamo sottometterci a questo. Il Pakistan vuole combattere perché vuole difendere i civili, vuole difendere gli innocenti. L'India in questo momento è il terrorista più grande che esista. E allora, noi come lo vogliamo combattere? Lo vogliamo combattere con l'aiuto dell'ONU. Noi vogliamo che in questo momento l'ONU, l'Italia, tutti quelli che sono le nazioni potenti del mondo che hanno un'influenza, vengano in aiuto del Pakistan, in aiuto del Kashmir. Perché non è un interesse personale del Pakistan e del Kashmir, è un interesse mondiale. Perché è un interesse che riguarda tutti quanti perché c'è gente che sta soffrendo. Se noi vogliamo aiutare quelli che stanno in Italia, perché non dovremmo aiutare quelli che stanno lontani? E allora in questo, in appello a tutti gli amici italiani, pakistani e europei, per favore venite in nostro aiuto. Cerchiamo una soluzione pacifica. Come possiamo permettere che due potenze mondiali atomiche possano entrare in guerra? Sarebbe una distruzione non solo per il Pakistan, non solo per l'India. Sarebbe una distruzione mondiale. Noi non possiamo tacere. Allora, io ringrazio di nuovo il nostro primo ministro, ringrazio di nuovo il ministro qua presente. Ringrazio tutti voi perché state dando una dimostrazione di umanità, di buon senso, che non è facile vedere qui tutti i giorni. Noi siamo pronti a combattere. Noi cerchiamo la via pacifica per combattere l'India. Ma se sarà disponibile, se sarà necessario, noi tutti quanti sarebbero in prima linea a combattere e a difendere i diritti dei civili. Grazie a tutti quanti. Grazie a tutti. 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 grazie a tutti 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 grazie a tutti